ooooh ma che schifo la scrivania eeeh WTF volevo dire bene a tutti i ragazzi sono Alex e io sono il Ghi che schifo eh te ne devo fare peggio del Niraoni ragazzi siamo su Niraoni volevo imitare il mio cane ma non ci sono riuscito ok ragazzi l'unica cosa che possiamo fare cioè adesso è andare a vedere se quella porta la si apre l'unica l'unica perchè non abbiamo altre vie perchè qua non ci entro perchè coglioni non ha trovato Takeshi non ci entro ci abbiamo già provato noi quando lo stavamo registrando ragazzi e l'unico modo che non abbiamo ancora guardato perchè non abbiamo visto niente è vedere se si apre quella porta lì se non si apre io adesso vado a vedermi le soluzioni perchè non ci sto capendo un cazzo veramente e invece si apre e anche un log di video che schifo è quello che schifo è quello è un granchio con un naso con con c'è anche la bocca che schifo è cos'è? con un naso e blocca fai qualcosa oddio ma cos'è? è un pene con delle spine con delle branchie ha capito cos'è? a me ne vado via ma è ancora lì no e il tavolo è tornato alla normalità tutto normale bene sempre scale noi saliamo scale in quanto cazzo ha questo palazzo? non lo so saliamo scale così all'interno cos'è sto schifo qua? libro di libro di un foglio deluge non si legge niente dai è così cancellato posso tirare fuori i titoli con la s libro c cosa dovevo fare? piange piange manca un libro giusto in mezzo a ogni volume 1 e volume 2 che cosa vuol dire? no no cammina che cosa devo fare? guide to yako mansion tari e yao very special day dobbiamo inserire i libri poi non si possa andare è chiusa ma non c'è niente ma lì c'è un altro libro lì c'è un altro libro finca ma bisogna stare qua e sedere tutti i libri ah lì sotto c'è un altro libro B quello lì cos'è? salviamo nel frattempo che l'incontro col demone naso naso pene ecco non volevo dirlo e cose poco attendibili devo ritrovare anche Takuro ok qua posso inserire qualcosa ok manca un libro chi ho logo a ogni volume 34 ah chi ho logo a ogni volume 33 è il numero B il B bello C ok si incastra perfettamente io non voglio sapere cosa succede perché i libri si incastrano va bene ah la libreria B ok adesso cosa abbiamo? il DL very special day e Mika Diary vampire i vampiri di Mika terza edizione non lo so non lo so c'è un Mika vampire days non me lo ricordo più cos'era e e e se c'è ancora quel oh ma vaffanare il DL è qua così ah non ci sono nomi è per forza D ok ok cosa è sta cosa qua? che bello più che altro cos'è sta cosa? è la luce la luce perché sembra beh andiamo in quella porta là prima passiamo no però si è aperta oddio si è aperta veramente basta demone naso no 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 cosa? ma sei coglione cos'hai fatto? non ci torna indietro a questo punto? perchè? cos'è? cos'è quello? ah il gioco delle sedie quello che ti sentono tutti da votare oddio no Takeshi oh merda merda oh ryan ryan hiroshi ryan sei qui pensavo che fossi persa eh non sei mai venuto a cercarmi eh lo so sono scusa eh questa qua è da tre anni che già aspetta qua eh lo so sono scusa ma eh stavo guardando qua intorno eh cosa c'è riguardo a Cassie Takuro e stavo guardando anche a loro riguardo a loro ma giusto adesso eh penso che dobbiamo andare fuori da qui eh ok andiamo a casa beh non lo abbiamo messo in tasca ci siamo messi in tasca e è morto anche il nostro no problema perchè exit no prima dobbiamo andare a prendere gli altri sto cavolo dell'exit come? ah lo devo portare fuori Ryan ah si portiamolo fuori così almeno quello salvo portiamola ah è una femmina ti ricordo che Ryan è una femmina ok perchè cos'è questa cosa? no no cos'è l'inghippo c'è qualcosa di di sicuro perchè si apre no c'è qualcosa di sicuro qua dov'è l'inghippo che non c'è un'uscita ha messo la bambolina ha messo la bambolina v2 di nickel no devi trovare tutte le bamboline ma scherzi eh qua c'è la v e ci sono le altre cose eh oh merda ma io non le ho ma scherzi ma che cavolo ma io uscirei e basta eh ho capito ma non posso farlo uscire non c'è niente esci dove? cioè non c'è un'uscita giù e vedi di qua non c'è ah dici che c'è quello ah scusate ah è proprio problema dov'è? l'inizio forse è il primo piano dove c'è? o no the home stretch non so cosa vuol dire qua 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 c'è una scatola servirà sicuramente a qualcosa tipo bloccare la via perchè? questa stanza è inutile perchè? blocco perchè ci siamo perfetto c'è un'altra via di la però non meglio c'è un frigo anche ma basta infeliceis che cosa? cosa? ah bisogna ah lo devo bloccare ok ok si può fare si può fare si può fare this is possible this is not possible this is not possible this is not possible this is not possible papà perchè carica è finita non c'è un'altra ma il culo sono morto sono morto sono morto sono morto sono morto sono morto per l'altro ma avevo saldato c'avevi ryan in tasca? si l'avevi sentito oddio ah di sto cavolo ma non posso neanche portare un'altra stanza perchè ah però c'è una via lì coglione eh pure lo scarafaggio si non lo so è vero lo scarafaggio l'ho sentito crrrrr adaleee 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 e poi c'è manca l'asso gigante dopo abbiamo tutta la famiglia completa cosa è gigante? ragazzi ma c'è una via c'è una via ma si cosa? ah è uscita stiamo scappati dall'uscita beh non l'avevo non l'ho fatto in tempo agli altri ah quindi mi ha finito hai lasciato in entro bastardo eh? siamo stati in quel posto per 2 31 minuto e 34 cioè lui si è contato tutto il tempo l'ora di gioco ah ok e ci siamo senti ma credo che si fosse contato tutto il tempo perchè sennò era scemo davvero e siamo passati e ci siamo sentiti come il tempo passasse più lungo più lungo praticamente gli altri non si sono mai mostrati c'è praticamente c'è praticamente bad ending cos'è? vabbè però siccome la schermata iniziale c'è anche solo Takeshi con Bulma quindi abbiamo salvato loro due e va bene quello è importante quindi ragazzi se vi è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace e iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo let's play bella ragazzi lo stai aspettando andiamo si ragazzi stiamo entrando nel sotterraneo del sotterraneo e isola quello che si chiama questo cos'è attenzione fietato l'accesso ai non autorizzati nato ma quindi proprio l'abbiamo trovato che ragazzi abbiamo trovato la base della nuca così è una parte della stazione di mio padre credi che funzionerà? non sembra messa male penso che il sistema primario sia ancora integro ma forse non ne so abbastanza per ripararlo Geo? che sorpresa trovarti qui